ciao a tutti questo venerdì un video brevissimo giusto per anticiparvi che io gianna e pink fluffy unicorn ricominciamo le esplorazioni la prima sarà domani notte in una casa antica che fu un ostello e poi è stata un'abitazione e adesso non è abbandonata è di proprietà privata ma è disabitata da qualche decina d'anni e tutti i proprietari e chi l'ha visitata ha avuto strane sensazioni e ha riscontrato un po di anomalie molto strane perciò noi domani andremo lì e se volete venire con noi nelle prossime esplorazioni seguiteci sul nostro gruppo su facebook urbex for passion dove diremo sempre con almeno una settimana di anticipo più o meno la destinazione delle prossime esplorazioni così potrete organizzarvi per venire con noi se vi fa piacere per accompagnarci per ciò che dire seguiteci sui nostri canali youtube sulle nostre pagine facebook e sul nostro gruppo su facebook urbex for passion oh yeah urbex for粉' baby e cura at Hep still grazie a tutti se